Si tratta di una manifestazione denominata Carosello 2023 che vedrà impegnate tre formazioni bandistiche o meglio fanfaristiche alpine che si esibiranno in esibizione di un carosello ogni fanfara per conto proprio dopodiché ci sarà un'esibizione congiunta di tutti i musicanti quindi 108 persone che formeranno figure di vario genere a tempo di marcia e seguendo quelle che sono le indicazioni dettate dai mazzieri delle varie informazioni. L'appuntamento per quando è? Ci troveremo il 27 maggio al stadio Curotti di Domodossola e in quell'occasione avremo questo evento che oserei definire per quanto ci riguarda eccezionale perché è la prima volta che portiamo in osso questo genere di esibizione ed è la seconda volta che ci vede impegnati in una manifestazione di questo genere dopo quella che abbiamo tenuto a Cantù nel 2019. E poi all'orizzonte c'è un impegno probabile per fine anno? Sì, abbiamo in animo di concludere i festeggiamenti del centenario con un'altra manifestazione stiamo elaborando l'idea di un concerto che ci vedrà impegnati in collegiata che avrà tra l'altro uno scopo benefico quindi vorremmo poi donare eventualmente tutto quanto potremmo incamerare per opere di beneficenza e sarà nella nostra intenzione quello di presentare brani legati alle cinque brigate alpine che una volta formavano quelle che erano le truppe da montagna. Per avvicinarsi alla fanfara? Eh, questa è una bella domanda e anche una cosa che ci dà molta soddisfazione bisogna sapere suonare, bisogna avere una preparazione musicale imprettamente bandistica, quindi strumenti a fiato o a percussione ma noi accettiamo chiunque da qualsiasi formazione provenga.